Io ho studiato sul sussidiario e Taranto era conosciuta come la città meno piovosa d'Italia e la città più assolata d'Italia. Ora 50 anni di forni accesi perché noi abbiamo 478 forni di batterie e cocherie sempre accesi abbiamo 6 convertitori di acciaierie da 350 tonnellate sempre accesi, abbiamo 5 alti forni sempre accesi da 200 metri d'altezza abbiamo 12 forni a spinta sempre accesi di prediscaldo brandi, abbiamo motori elettrici, migliaia di motori elettrici sempre in funzione centinaia di caldaie che producono vapore. Ma voi pensate che il nostro microclima non sia cambiato?